Andiamo! C'è entrato! C'è entrato! Veicolo nemico distrutto! L'abbiamo preso! Centrato! Da il corpo! Centrato! Li abbiamo danneggiati! Sei rimbalzato! L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! Bel colpo! Pronti al fuoco! Corazzato nemico distrutto! Versaglio perso! Versaglio acquisito! Pronti al fuoco! Cambio obiettivo! Cingolo colpito! Corazzato nemico danneggiato! Non l'abbiamo bucato! Non l'abbiamo bucato! È rimbalzato! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Siamo immobilizzati! Muoversi, muoversi! È rimbalzato! Li abbiamo danneggiati! Li abbiamo danneggiati! Persaglio acquisito! L'abbiamo preso! Persaglio acquisito! Cerchiamo un altro barsaglio! Corazzato nemico distrutto! Veicolo nemico distrutto! La scuola è stata scala! Non lo so, non lo so, non lo so. La scuola è stata scala! Non lo so, non lo so. Ma scuola è stata scala! C'è stato scala! Non lo so! Razzato nemico danneggiato! Pronti al fuoco! Li abbiamo danneggiati! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Peccato! L'abbiamo preso! Colpito! Li abbiamo danneggiati! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Non lo vedo più! È rimbalzato! Centro! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Corazzato nemico danneggiato! Veicolo nemico distrutto! Non lo vedo più! 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 Non lo vedo più!